buongiorno a tutti allora 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 arrivano le news e poi ci saranno anche le call news allora partiamo con le news perché come al solito i geni della lampada o se volete quelli che magari hanno studiato poca educazione civica e voglio essere come si suol dire molto politica ricorre perché se dovessi dire quello che penso esagero l'hanno combinata grossina diciamo perché non si fa tu torni da una partita e non me ne frega niente di chi siano che tifosi siano di che squadra siano eccetera eccetera non si fa e andremo a vedere di che cosa si tratta poi parleremo di cinema ragazzi miei o andiamo su qualcosa di più tranquillo di più frigoro cinema di supereroi e un attore dice che un po di pausa dai supereroi non è una cattiva idea fa molto bene dai supereroi parleremo di un film che penso sia uscito sta per uscire è la seconda parte di un film famoso che è stato fatto recentemente ma che venne fatto almeno 30 40 forse 40 anni fa un film di fantascienza diciamo dell'ambito star wars e quant'altro ma non c'entra nulla con star wars però la tipologia è molto simile io non ho visto solo degli spezzoni eccetera e francamente mi ricordava molto più star wars che star trek ecco per intenderci o magari che ne so il quello del sesto elemento se non era dal sesto elemento quello che c'era il portale c'era lei coi capelli rossi che c'era la l'attrice coi capelli rossi magrissima e stando sempre al cinema torneremo a parlare di babylon babylon perché l'attrice principale o una dell'attrice non ha avuto dei problemi con il fratello proprio a causa di questo film perché lei era un attimino diciamo disinibita in questo film il fratello ci è rimasto un attimino male nel vederla ecco detto questo ragazzoli partiamo con questa notizia che a me se cose fanno girare i testi forse perché il nostro maestro pellati ai tempi dei tempi ve l'ho raccontato un sacco di volte quindi inutile che mi ripeto andatevi a vedere i miei video di quando ero bimbo di quando raccontavo le questioni personali del passato inserite tra gli 8000 passa video magari vi appare perché ragazzi mi è successo questo fatto poco simpatico dopo como venezia è stato lanciato dal pullman dei tifosi del venezia il petardo che ha danneggiato la camionetta della polizia locale di como in occasione della partita contro il como allo stadio sinigaglia all'arrivo all'altezza del carrefour di viale rosselli si è aperta la porta e un tifoso che si trovava all'interno del mezzo ha lanciato il piccolo ordigno esplosivo all'interno del furgone che si è andata a incastrare tra il cofano e il parabrezza del furgone della locale deflagrando il petardo ma c'è chi parla di addirittura di bomba carta ha danneggiato il vetro nessuna gente è rimasto ferito per questo episodio non è stato ancora fermato nessuno poiché le indagini che con probabilità si avvarranno anche di filmati sono ancora in corso ecco io non vado a vedere come stanno andando le immagini sinceramente non capisco il gesto sinceramente non capisco come dei tifosi di una città bella come venezia che è una delle città d'arte più belle d'italia forse solo dopo roma e firenze poi magari qualcuno vi dirà no venezia è più bella di firenze più bella di roma qualcuno mi dice gigi non puoi pargano pargano paragonare rome firenze con venezia non c'è paragone eccetera 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 però comunque una città d'arte una città da libidide ecco per intenderci e quindi mi aspetto che i cittadini veneziani siano virtuosi abito il bello e quindi non si va vada di giro a deturpare a fare danni a fare i vandali ma tengano tengano alto il valore della loro città poi come direbbe qualcuno la mamma dei cretini è sempre incinta e vabbè però ragazzi miei che cosa mi rappresenta andare a buttare un petardo alla camionetta del vigilo della polizia vabbè ognuno ha le sue libidini poi chiesto chi come diceva quello la chi è stato pagherà io comunque rimango sempre basito passiamo al buon pool danno siccome io non lo conosco anche perché i film marvel non li sto sinceramente guardando anche se da bimbo guardavo sempre super gulp eccetera eccetera comunque pool danno è un attore regista sceneggiatore statunitense anche piuttosto giovane visto che ha e del 1984 quindi a non so perché ha messo 30 39 abili a 38 al massimo 19 giugno 84 quindi compierà 38 anni da 84 non giusto 84 se 39 anni giusto giusto ne compierà 40 giugno e poi danno ha voluto dire la sua sulla stanchezza dei super da supereroi è un momento ben accolto il noto attore americano parla della saturazione del cinema da film di supereroi e il loro progressivo fallimento appunto al botteghino come si suol dire paul danno attore americano noto per la sua grande versatilità in termini di film the fabelmans the batman prisoners occhia e anche di personaggi che interpreta ha recentemente spiegato il motivo per cui vede positivamente la stanchezza da supereroe messo tra virgolette il termine balber supereroe hero fatigue è stato cognato recentemente per indicare la stanchezza l'insofferenza degli spettatori per i cinecomic a seguito della grossa saturazione del mercato cinematografico con questo genere come si dice di solito per quanto una cosa sia buona continuare a mangiarla every day every night dopo un po storpia anche se di alcune cose non ci si stanca mai e non aggiungo altro una fatica da supereroe che è stata constatata anche nei sempre più scarsi successi di questo filone non solo in termini di incasso ma anche di accoglienza tra critica e pubblico paul danno sullo spostamento verso i contenuti dell'industria cinematografica ora tutte quantità invece di qualità danno che ha interpretato l'enimista nel grande successo del madman del 2022 di matt reeves spiega perché questa trasposizione di batman ha funzionato rispetto a tanti altri cinecomic recenti che invece hanno fatto flop al botteghino ma anche tra il pubblico e queste le sue parole ci sono abbastanza cinecomic in cui sai già quello che ti ritroverai leggendo la sceneggiatura di the batman sapevi che era un vero film ogni frase era tutto matt reeves l'attore ha anche evidenziato come bisogna accogliere in modo positivo la stanchezza da supereroe messo tra virgolette infatti a riguardo ha detto al quotidiano the independent siamo di fronte ad un interessante momento in cui tutti sono tipo ok e adesso cosa punto di domanda magari da qui in poi qualcuno darà nuova linfa vitale messo in parentesi quadra e cinecomic e magari qualcos'altro sorgerà che non sia supereroe sono certo che altri buoni ne verranno in futuro ma credo che questo è un momento ben accolto danno ha poi anche spiegato è una cosa più grande in realtà nel momento in cui la parola contenuto messo tra virgolette è entrata nel nostro mondo riferendosi al fare film tv allora è diventato tutto quantità invece di qualità ed è stato un grande passo falso e certamente non ne ha bisogno come spettatore e come attore queste le sue ultime parole allora la fonte è the independent ma come sempre ringraziamo cinematogra.it perché mi dà sempre questi begli spunti sul cinema e infatti tutte le notizie che adesso vi darò sono tutte di cinematogra.it così non ve ne dimentico mentre invece per quanto riguarda il teppistello che ha buttato il petadrao ringrazio qui como perché è lui che mi dà le notizie del comasco e non solo dure parte 2 dennis villeneuve sul casting di asti buttler è stato un azzardo il regista canadese spiega come ha conosciuto asti buttler e come lo ha scelto per il ruolo di fade rauta per chi spero di averlo pronunciato giusto per chi conosce giù dune naturalmente mi dirà gigi guarda che non si pronuncia così ad una e non l'ho visto ne ho l'uno nel due ne quello di 40 anni fa quindi ve ne parlo ambasciatore non porta pena l'attesa sembrava non finire mai ma finalmente l'attesissimo dune parte seconda è nel cinema di tutto il mondo quindi da questo marzo diretto da dennis villeneuve e con un castellare ed eccezionale che comprende timothy chalamet zendaya rebecca ferguson javier bardem asti buttler florence pug oltre a stella scargard che faceva il papà di di orlando bloom in pirati dei caraibi josh brolin lea sidus de bautista christopher walken e charlotte rampling il film sta già sbancando al bontevino di moltissimi paesi di una notizia abbastanza recente ragazze in una recente intervista il regista villeneuve ha parlato della decisione di ingaggiare austin batter per interpretare il temibile fed rauta arconnen arconnen nipote del barone vladimir arconnen e dell'iniziativa dell'iniziale incertezza sul suo casting a sindicato villeneuve nel corso dell'intervista con movie phone movie phone ha spiegato come ha scelto l'attore americano per il ruolo dell'erede di casa arconnen per l'appunto il giovane è spiegato fed rauta ecco le parole del regista a riguardo ero molto curioso riguardo ad austin l'avevo visto in alcuni film in particolare in c'era una volta hollywood di quentin tarantino e poi imparando a conoscerlo meglio l'ho trovato molto interessante poi buzz lurman mi aveva mostrato alcune scene di elvis prima che uscisse nel cinema e parlava benissimo di lui ho poi incontrato austin e sono rimasto molto impressionato da lui sapevo che qualcuno che era in grado di portare sullo schermo elvis nel modo in cui lui c'era riuscito poteva fare qualsiasi cosa perché quello che aveva fatto in quel film era veramente difficile quindi sapevo che lui poteva avere tutte le qualità che stavo cercando per fed rauta ma è stato comunque un azzardo villeneuve ha poi spiegato meglio come la preoccupazione iniziale svanì solo nel momento in cui iniziarono le riprese si fanno sempre i test con le cineprese prima di girare e per quanto tu possa essere convinto della scelta è sempre nel momento in cui inizi a girare che sai ero rimasto spiazzato avevo subito pensato che era perfetto aveva una grande responsabilità perché ha un grosso personaggio nel romanzo aveva una grossa pressione sulla presso le proprie spalle sono molto fiero di lui quindi ringraziamo cinematogra.it per averlo estaporato e naturalmente la fonte movifon che appunto ha ripreso l'intervista al regista di dune 2 ma tenete conto che nei prossimi giorni o comunque nel mese tra marzo aprile parleremo ancora di dune poi se qualcuno è andato al cinema a vederlo e vuole dare la sua versione del film se gli è piaciuto non gli è piaciuto senza mettere nulla perché senza spoilerare perché non si sa mai qualcuno vuole andare a vedere glielo spoilery e ci girano un po i ballet veniamo all'ultima notizia che riguarda margot robin e la scena di nudo frontale mio fratello non mi ha parlato per tre mesi il fratello di margot robin si è rifiutato di parlarle per svariati mesi a causa di una scena di nudo integrale certe scene sono davvero difficili da guardare insieme alla famiglia lo sappiamo ma la reazione del fratello di margot robin forse è andata un po oltre la celebre attrice australiana ha rivelato che suo fratello non le ha parlato per tre mesi dopo aver visto la sua scena di nudo integrale in the wolf of war street il film di martin scorsese del 2013 con protagonista leonardo di caprio nei panni del corrotto jordan belford chiedo venia pensavo fosse per la scena di babilone invece era per la scena di the wolf of war street perché anche comunque in babilon robin regala gioia per chi l'ha visto io non ho ancora avuto il piacere di vederlo non so se riuscirò a vederlo perché c'è un po di cosine da fare poi tra un po inizia anche a lavorare però prima o poi lo guarderò robin nel film ha interpretato da obi la paglia la seconda moglie di belford l'attrice ha recitato in diverse scene hot con leonardo di caprio e si è detta felice di essersi dovuta spogliare anche se credeva di non essere abbastanza sexy per farlo e ha dovuto bersi due shot di tequila prima del chuck ma la sua famiglia è stata meno a suo agio di fronte alla sua immagine senza veli specialmente suo fratello parlando durante un'intervista al podcast screen time la star 32enne ha rivelato di aver visto the wolf of war street con la sua famiglia una mossa piuttosto audace uno dei suoi fratelli ha trovato la visione particolarmente difficile tanto che ha avuto bisogno di qualche settimana di pausa prima di tornare a rivolgerle la parola queste le parole di margot robin uno dei miei fratelli non mi ha parlato per tre mesi non perché fosse arrabbiato mi ha solo detto ho bisogno di un minuto prima di poterti considerare di nuovo mia sorella margot robin inizialmente era titubante riguardo alle scene di nudo nonostante il suo manager le avesse detto che se ci sarà mai un momento per la nudità questo è il regista con cui lo farai alla fine l'attrice ha cambiato idea perché sentiva che la nudità era in linea con il personaggio di naomi il punto centrale di naomi è che il suo corpo è la sua unica forma di valuta in questo mondo quindi quando martin scorzese stava cercando di aiutarmi e ha detto che nella scena in cui seduco jordan forse avrei potuto avere una vestaglia ho risposto che non avrebbe avuto senso dovevo essere nuda quindi ragazzi miei ringraziamo la fonte che è l'ad bible l'ad bible e naturalmente cinematogra punto it che come sempre mi regala queste gioie andandole a pescare detto questo io vi saluto vi ringrazio adesso andiamo a fare anche le call news perché c'è un telefilm una chicca proprio una chicca torniamo indietro di un sacco di un sacco di un sacco di tempo a quando ero bibbo anzi non ero ancora nato per essere precisi poi è arrivato in italia negli anni se fine anni 60 inizio 70 e quindi ho avuto avuto modo di vederlo era ancora pensate in bianco e nero parleremo di quello e poi anche di qualche altra cosa curiosa che è avvenuta quindi mi sposto preparo già tutto ma intanto vi saluto vi ringrazio chiudiamo qua questo primo video di news e andiamo a fare poi le call news ciao ciao